Domenica 28 luglio alle 19.30 all'Hotel Caos avrà luogo la cerimonia di premiazione del concorso fotografico Fotografa San Calogero. Ben 272 fotografie, tutte ritraenti i momenti più emozionanti della processione, tra il sacro e il profano, dovranno fare conti con una giuria di esperti e giornalisti. Presieduta dal direttore del giornale web Agrigentoggi, Domenico Vecchio, ideatore e promotore del concorso, è presentato dalla nostra Margherita Truppiano. Saranno presenti in qualità di ospiti speciali invece Michele Guardi e Gianfranco Liannuzzo. La cerimonia, organizzata con la collaborazione di Federalberghi, vedrà la consegna di tre premi speciali. Alla migliore foto che promuove Agrigento, alla migliore foto al femminile ed alla migliore tecnica fotografica. Saranno premiate inoltre le 509 foto che hanno partecipato al concorso Fotografa il Mandorle in Fiore, ritraenti i momenti più spettacolari del Festival Internazionale del Folclore. Infine, tra le novità di quest'anno, la consegna dei premi speciali DIN24, Proloco Agrigento e il premio della Presidenza Provinciale dell'Aix per i concorsi Fotografa San Calogero e Fotografa il Mandorle in Fiore. Le foto in concorso possono essere visionate nella sezione Fotoracconti del giornale online Agrigento Oggi.